Signori miei, siamo arrivati. È il giorno di Lecce-Juventus, quindi oggi gioca la Juve e voglio sapere un po' le vostre sensazioni. Io sono in quel momento in cui ho proprio voglia di vedere giocare la Juventus perché ho voglia di vedere intanto una reazione concreta e duratura. È il momento più difficile da quando abbiamo ricominciato effettivamente a vincere degli scudetti post-calciopoli. È il momento più duro e tante volte ci siamo detti questa frase, eppure questo momento non passa, anzi peggiora. Ed è proprio per questo che in questo istante ho voglia di vedere la Juve, anche se so che sarà sofferenza. So per certo che sarà sofferenza. E anche oggi con il Lecce, devo dire la verità, non sono tranquillissimo. Ieri vi dicevo potrebbe essere una partita da tripla. Oggi confermo questa cosa e vorrei anche portarvi qualche dato, secondo me abbastanza preoccupante per quanto riguarda la nostra condizione fisica e per quanto riguarda quella che potrebbe essere la partita. Tra l'altro non dimentichiamoci che sono le ultime partite prima del mondiale, un mondiale dove l'Italia non è qualificata, un mondiale dove la Juventus non giocherà e quindi per un mesetto e mezzo abbondante non avremo la possibilità di vedere tanti dei nostri calciatori. Alcuni li vedremo sì in nazionale, altri no. Tra l'altro ieri qualcuno mi chiedeva ma Vlaovic salterà quindi il mondiale per il discorso pubalgia? Non lo so, dipende come messo. Infatti Vlaovic non è stato convocato, ne avevamo parlato anche nel video di ieri della conferenza stampa di Allegri. La pubalgia è una brutta bestia, ragazzi. Sconfiggere la pubalgia è abbastanza complicato e ci vuole del tempo, ci vuole dell'attenzione, ci vuole della concentrazione, ci vuole della calma. È veramente un problema fastidioso, molto molto fastidioso. Infatti solitamente un calciatore con la pubalgia entra anche in un momento non proprio eccellente dal punto di vista psicologico. Mi ricordo anche Caracol Milan fece una fatica incredibile a uscire da quel brutto problema. Quindi un in bocca al lupo Vlaovic sperando di vederlo recuperare il prima possibile. Allora, oggi vorrei iniziare da qui, da Soccerment. Il link di Soccerment, la piattaforma dove ho tirato giù questi dati, dove ho scaricato questi dati, è qui sotto in descrizione. La piattaforma è gratuita per quanto riguarda l'utilizzo della Serie A, poi ci sono dei pacchetti se si vuole utilizzare anche altri campionati. Ci sono tot campionate gratuiti, quindi fate un salto dal link in descrizione perché potrete anche voi andare a fare questi grafici, andare a estrapolare questi dati. E c'è anche la possibilità di acquistare XI del parastinco intelligente di cui vi ho già parlato. Link qui sotto in descrizione. E quindi grazie a questo grafico di Soccerment, che è basato sui dati Serie A soltanto di Juventus e Lecce, siamo riusciti a intersecare e vedere su cosa siamo più bravi noi, su cosa sono più bravi loro. E' ovvio che stiamo parlando della Juventus contro una squadra di Lecce che in questo momento è nei piani bassi di classifica. Loro non hanno mai fatto clean sheet fino a questo momento, mai. Hanno sempre concluso ogni partita con almeno un gol subito. Questo dovrebbe farci capire che abbia la possibilità di fare male a Lecce. Loro di gol ne fanno pochi. Loro di passaggi non è che siano proprio i maghi. Di tiri in porta nemmeno, però ci sono due dati molto interessanti che si avvicinano terribilmente a quelli della Juventus. I recuperi, in cui il Lecce è lievemente sotto la Juventus, quindi vuol dire che è una squadra che comunque ci mette tanta quantità all'interno della partita, più che qualità. E il dribbling. Nel dribbling sono addirittura superiori a noi. Noi abbiamo un problema col dribbling. L'abbiamo già detto, negli uno contro uno facciamo sempre molta fatica a creare superiorità numerica, facciamo sempre molta fatica. Quindi la partita che dobbiamo aspettarci è di un Lecce che ci lascerà probabilmente il possesso del gioco, perché loro con i passaggi fanno veramente fatica, che difficilmente arriverà a tirare in porta, che ballerà abbastanza lì dietro, ma che quando ha la possibilità di recuperare un pallone e ripartire in velocità magari anche con dei dribbling, appunto, possono fare male. Una partita che sulla carta non dovrebbe avere nessun tipo di problema, quindi la Juventus dovrebbe andare a Lecce e portarsi a casa i tre punti, perché è una squadra che vuol dimostrare di essere uscita dalla crisi, questo deve fare. E se è uscita dalla crisi non basta una partita, però da qualche parte bisognerà iniziare post eliminazione dalla Champions, e dato che si è indietro anche in campionato non si può stare qui a dire, eh Lecce tre punti, no, bisognerebbe andare lì e basta, però poi vedremo che ci sono delle difficoltà evidenti nella Juve. Le guardiamo in una seconda battuta prima finiamo di analizzare i dati di Soccerment, perché nel Lecce vi dico occhio a banda e a strefessa, che sono i più precisi nel dribbling, quelli che creano più possibilità di pericolo nel dribbling, e attenzione perché strefessa è anche quello che tira di più in porta per il Lecce, quindi questi due giocatori su tutti vanno tenuti sott'occhio. L'ultima formazione che ha utilizzato il Lecce è stata questa, questo 4-2-3-1, nella sconfitta per 2-0 col Bologna, e noi col Bologna ci abbiamo giocato qualche settimana fa e ci ricordiamo che non è una formazione irresistibile, non c'entra niente poi l'interseco con il Lecce, però ricordiamo che il Bologna è una formazione abbastanza ok da affrontare, il Lecce ci ha perso 2-0, ripeto, non vuol dire niente, però una minima parte ci deve dare il segnale di possibilità, non stiamo andando a Lisbona a giocarci una partita da dentro fuori dalla Champions con un miracolo che serve intersecato tra PSG e Maccabi, no, serve andare a Lecce e prendersi 3 punti contro una squadra che in questo momento ha vinto una sola volta in Serie A. Quindi Falcone, Pestella, bla bla bla, questa è la formazione del Lecce e come vedete Strefessa e Banda sono i due giocatori che agiscono sull'esterno, quindi attenzione a questi due giocatori nello specifico perché hanno la possibilità veramente di ripartire magari con un break a centro campo e poi dando la possibilità ai due esterni di andare come dei cavalli passi. E per concludere, il Lecce non ha ancora mai vinto in casa in questa Serie A, la Juventus ha vinto soltanto una volta in trasferta nel derby di Torino, quindi nemmeno in trasferta perché ha vinto a Torino. La Juventus non vince lontana da Torino da aprile dell'anno scorso, stiamo parlando di quasi sei mesi e rotti, quasi sette mesi. Loro non hanno mai vinto in Serie A, noi lontano da Torino non vinceremo da sette mesi, non hanno mai vinto in casa in Serie A, quindi a bello statistico mi è da dire che il pari potrebbe essere l'opzione più grande di tutte, tra l'altro pari è anche l'ultimo precedente tra Lecce e Juventus in Serie A, ricorderete l'anno di Sarri, in quella partita in cui giocano Di Bale e Goin davanti, Ronaldo non viene convocato, facciamo soltanto 1-1, tra l'altro dovrebbe essere la partita di quel palo incredibile di Bernardeschi dove decido che basta dare possibilità a Bernardeschi per un eventuale risveglio, e infatti poi ci sono state magari delle timide chiamate, ma nulla più Bernardeschi è rimasto quel giocatore nel limbo della mediocrità che pensavamo tutti, ma che avevamo sempre la speranza potesse cambiare qualcosa, quindi occhio che si lasciano punti a Lecce, a Lecce si possono lasciare punti, tra l'altro anche il Napoli due punti quest'anno con Lecce li ha lasciati indietro, direi di starci abbastanza attenti perché potrebbe esserci lo scherzetto pure oggi, dato che siamo sotto Halloween preferirei il dolcetto. Io ora vi voglio far vedere questa perché questa mi ha veramente fatto male, è la lista degli indisponibili che ha pubblicato ieri Romeo al netto delle convocazioni della Juve, e quindi Pogba, Chiesa, Ache, Caio Orge, Locatelli, Di Maria, Blaovic, Paredes, De Sciglio e Bremer. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Dieci giocatori della prima squadra non convocati per questa partita. Stiamo parlando quasi del 50%, cioè quasi della metà della rosa. Facciamo 40, 45. Wow, ragazzi, proprio wow, è come se non bastasse, poi Romeo rincara la dose dicendo le prove di formazione alla vigilia di Lecce e Juventus, occhio al possibile 4-3-3. Quindi salutiamo per il momento la difesa a tre, Bonucci verso la panchina, quindi facciamo un rapido conto, Bremer è fuori, Bonucci verso la panchina, i due centrali rimasti sono Gatti e Rugani, no? Dato che Quadrado andrà nel tridente offensivo con Milik titolare, è possibile panchina per Ken, con Vlaovic che non ci sarà? Allora significa, come fanno notare anche sotto nei commenti, che i centrali difensivi saranno Gatti e Rugani, verosimilmente. Invece no, perché poi stamattina cosa succede? Che Giovanni Albanese ci tiene a farci sapere che anche Rugani non è al meglio. Ma ragazzi, ma santo il signore! Ne abbiamo dieci fuori, Rugani non è al meglio, Bonucci verso la panchina. Allora siamo forse costretti a giocare con Scesni, Quadrado, Gatti, Danilo, Alexandro, McKennie largo a destra, Fagioli e Rabiù a centrocampo, Kostic largo a sinistra con Miretti dietro Milik. Boh, cioè in questo caso cos'è la panchina? Ken, Sule, Iling e che altro? Cioè non me ne vengono in mente tanto. Perin, Pinsoglio, Bonucci, sono undici, più sei, diciassette. Ce ne sono altri due che in questo momento non mi viene in mente. Uno è Rugani che non è al meglio e ne manca un altro. Cioè capite bene che anche in caso di necessità non hai la possibilità di cercare di cambiare l'inerzia della partita. Ma ragazzi, ma questa situazione non è accettabile. Cioè io capisco che c'è l'infortunio traumatico di Pogba, capisco che c'è l'infortunio traumatico di Chiesa, capisco che c'è, che ci sia, l'infortunio traumatico di Caio Orge, però poi tutto il resto inizia a diventare abbastanza ridicolo. Cioè siamo in un momento veramente in cui non facciamo punti, siamo in un momento in cui siamo fuori dalla Champions, siamo in un momento in cui abbiamo necessità di vincere la Lecce, che tra l'altro dovrebbero essere tutti convocati contro una squadra che in teoria non dovrebbe provocarti difficoltà e nonostante questo dieci giocatori fuori non convocati, due giocatori convocati che però non stanno bene. Ma poi mi dispiace, io Ealing oggi l'avrei voluto vedere, mi sarebbe piaciuto, dato che si è detto che può giocare pure a destra. Poi magari giocherà, perché questa è una probabile formazione, è una possibile formazione. Però capite bene che con quelli che sono a disposizione, unendo i dati, unendo le notizie che ci danno i giornalisti, man mano che passa il tempo, si dovrebbe andare verso una formazione quasi obbligata. E in questo momento non è proprio il caso, non è proprio il cartellino da visita perfetto per farci capire la situazione della Juventus e mi piacerebbe passare un sabato tranquillo, almeno contro il Lecce. Questo è. E allora niente ragazzi, noi ci vediamo oggi per la live reaction di Lecce e Juventus, sperando che possa essere un trionfo, sperando che possa essere un pomeriggio tranquillo e non l'ennesimo pomeriggio di rabbia e frustrazione, perché è un attimo, veramente è un attimo. In questa situazione in cui tutto va male, aggiungi che va male anche questa, che non dovrebbe andare male, ma io penso che oggi ci siano i presupposti per vincere nonostante tutto, nonostante le assenze, nonostante il fatto che loro possano essere una squadra che sotto determinati punti di vista può metterti in difficoltà. C'è anche la possibilità di non vincere, perché questa Juve la possibilità di non vincere ha dato tutte le squadre, però vi scongiuro ragazzi, almeno in questa occasione, fatemi passare un sabato pomeriggio tranquillo, perché non so, non so se me la sento di essere arrabbiato anche oggi. Dai, forza Juve! Speriamo bene ragazzi, speriamo bene.